eh non può essere un giro in moto se prima non si parte dal benzinaio proprio così cazzo quanto beve un ottaccio sua nooo vaffanculo altro diceva anche oggi maledizione ok ciao ragazzi oggi sono qua con il nostro crf 450 e in questo video andremo a vedere fino in che marcia si andrà ad alzare e abbiamo 5 marce a disposizione per fare questo test e io ovviamente so già come andrà a finire perchè ho già avuto modo di testarla e niente quindi questo qua è un po' un video curiosità ecco e ha solo 5 marce perchè è una derivazione cross quindi è molto aggressiva fin da subito e in più monta una centralina della vortex dove cambia totalmente ad altri regimi ragazzi quindi non è da considerare un crf 450 originale quindi questo piccolo video andremo a vedere fino in che marzo si alza di frizione e subito dopo fino in che marzo si alza solamente di gas e niente ragazzi quindi prima che inizio il video mi raccomando iscrivetevi al canale che è importantissimo per non perdervi i prossimi video che davvero saranno una bomba assurda quindi ragazzi ora siamo pronti per iniziare il vero buon test mettiamo la prima ok lo lasciamo in prima e andiamo a vedere fino in che marzo si alza eh ragazzi sono già fritte le marce abbiamo alzata fino a quinta e davvero tante tanta roba prima seconda e terza basti i regimi alzandola di frizione ragazzi davvero una cosa spaventosa ti strappa le braccia ragazzi riproviamo di nuovo partendo di nuovo dalla prima ok lo lasciamo in prima e proviamo e ragazzi anche qui si alza fino in quinta tranquillamente e adesso andremo a vedere se si alza fino in quinta però stavolta soltanto di gas quindi neanche il colpo di braccio andremo a fare come si chiamate ragazzi che quando l'ho alzata di frizione ero sempre sotto coppia quindi capite la potenza di questo motore ok ragazzi lo lasciamo di nuovo il clima e andiamo a vedere se si alza di gas in tutte le marce e anche stavolta ragazzi si è alzata di gas in tutte le marce solamente di gas ragazzi adesso andremo a riprovare lo stesso test però stavolta andremo a aspettare un pochino di più o meglio la faremo scendere e dopo andremo a dare la manata di gas perché fatto come adesso abbiamo dato il colpo di gas subito dopo che va usciersi quindi abbiamo sfruttato il rimbalzo delle forcelle guardate che spettacolo qua ma no che bomba no questo no fermo fermo che mi fermo lì fermo lì che mi spuocchi tutta la moto dai fermo lì al suo posto ok come avete potuto vedere si è alzata fino in quarta in quinta non ce l'ha fatta comunque ricordo ragazzi solamente di gas senza dare nessun colpo di braccia e senza il rimbalzo delle forcelle ok ragazzi andiamo a provare l'ultima volta sempre assolutamente di gas e anche stavolta ragazzi in quinta non ce l'ha alzata ma fino alla quarta ho aperto il quadro al metro e ragazzi se vi state chiedendo fino a che velocità si impenda posso garantirvi che ci ho fatto 150 km avvi con questa moto guarni impennata ragazzi e niente ragazzi quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale e mi raccomando la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video